Eccoci ragazzi bentornati sul mio canale, nuovo video di aggiornamento tech Nei giorni passati vi ho riportato tutti i leaks e rumors più interessanti sull'iPhone 16 Vi li lascio direttamente in alto a destra, andatevela a vedere Vi ricordo come sempre prima di iniziare di supportare il canale iscrivendovi e lasciando un bel mi piace E poi le mie collaborazioni con Eneba Ogni volta dovete comprare un videogioco nuovo, un video del passato, una gift card, un abbonamento per Xbox, Playstation e gift card Trovate tutto in link in descrizione E poi mi raccomando iscrivetevi al mio canale delle offerte dove metto una marea di sconti Mi raccomando anche quando dovete comprare qualsiasi altra cosa su Amazon Utilizzate il link del canale perché entrerete su Amazon con la mia affiliazione Ma non ci perdiamo in chiacchiere perché in queste ore, sentite bene, aguzzate le orecchie Sono partiti già i primi rumors su quella che sarà la line up o meglio l'iPhone 17 Voi mi direte mamante ma ancora devono presentare il 16 Altro giorno ci ha portato il leaks dell'iPhone 16 Pro Max e adesso già ci dici l'iPhone 17 Bene, in queste ore se ne sta parlando tantissimo Sembrerebbe che l'iPhone 17 subirà un cambiamento soprattutto a livello estetico Il più importante dall'iPhone X che come sapete fu uno dei cambiamenti più interessanti della line up di iPhone Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate a riguardo Il tutto arriva dal sito di Information che come sapete già in passato ha indovinato un sacco di cose Mi sono fatto già qualche appunto La prima informazione più importante è questa Sembrerebbe che le fotocamere che come sapete sono collocate in alta sinistra dei vostri iPhone Da lontano 2007 quindi dalla progettazione originale potrebbero spostarsi al centro Quindi le fotocamere posteriori molto probabilmente con l'iPhone 17 le sposteranno al centro della scocca Come potrebbe essere ad esempio il Pixel 8 di Google per farvi un esempio Altra cosa molto interessante dovrebbe essere il dispositivo più fino di tutta la line up di iPhone Fino appunto a quella serie quindi spingeranno ancora di più a rendere il dispositivo più fino Come avete visto poi quest'anno come quello che sta accadendo per l'iPad Pro o il nuovo iPad Air Con il processore M2 che sono diventati veramente finissimi Avete visto anche l'iPad Pro con l'M4 quello che è successo Si parla di display che potrebbero oscillare dai 6,1 ai 6,7 E in questi giorni ha parlato anche l'esperto di display Ross Young Che ha dichiarato che il dispositivo dovrebbe avere un 6,5 pollici Ovviamente ragazzi queste sono le notizie più interessanti Ma ha fatto da information proprio un recap di tutti i rumors più interessanti Proprio di queste ore di questi giorni relativamente all'iPhone 17 Quindi ricapitoliando le fotocamere Secondo questo report dovrebbero spostarsi dall'angolo sinistro al centro del display Dio meglio della scocca del nostro telefono Il display dovrebbe passare dai 6,1 ai 6,7 Molto probabilmente l'iPhone 17 avrà 6,5 pollici Ovviamente sto parlando dell'iPhone 17 E molto probabilmente l'iPhone 17 potrebbe superare in termini di prezzo Addirittura quello che è attualmente il Pro Max Che come sapete in America parte dai 1200 dollari Quindi il Pro Max e il Pro dovrebbero costare ancora di più Design ovviamente più sottile Con scocca e telaio Che rimane a quanto pare dovrebbe passare e tornare all'alluminio Il prezzo come vi ho detto già più alto Si parla di una fotocamera frontale che finalmente sarà migliorata Una Dynamic Island Quindi l'isola dinamica che abbiamo al centro Dovrebbe essere più stretta Quindi dovrebbero ancora di più guadagnare spazio in merito a questa cosa E molto probabilmente l'iPhone 17 dovrebbe portare come altra novità molto interessante Il chip A19 Quindi ragazzi questi al momento sono i rumors e l'X più interessanti sulla line up dell'iPhone 17 Quindi mi raccomando supportatelo Mi raccomando rimanete sintonizzati perché nei prossimi giorni arriveranno altre belle bombette Ci avviciniamo sempre di più al 10 di giugno Vi ricordo la WWDC dove Apple presenterà l'intelligenza artificiale Quindi seguiremo tutte le varie informazioni con approfondimenti Noi ci vediamo ad un prossimo video Vi ricordo in Ebba e Telegram per supportare il mio canale E noi ci vediamo al prossimo video